Le poltrone e gli assessorati non ci interessano perché in caso contrario non avremo certo disertato quella seduta del Consiglio sul Petruzzelli, quindi rimandiamo al mittente le accuse del Sindaco di Bari, Michele Emiliano, che ci ha definito estorsori politici. Ad alzare la voce dopo gli strali del primo cittadino sono ora i rappresentanti dell'Italia dei Valori che in occasione dell'adesione di Mara Giampaolo, ex Udc, al partito e al gruppo consigliare, hanno spiegato il punto di vista dell'IDV circa l'assenza alla seduta che ha approvato la revoca in autotutela del protocollo d'intesa del 2002. Noi non abbiamo partecipato alla votazione sulla delibera del Petruzzelli perché non condividevamo quella strada per quella vicenda e ritenevamo che ci fossero le vie giudiziarie che fra poco, fra l'altro, fra pochi giorni si pronunceranno su questa vicenda. Non è stata la nostra un'assenza politica ma esclusivamente un'assenza tecnica che ha fatto andare su tutte le furie il sindaco che evidentemente dava un valore politico e non tecnico a questa delibera. Non è il Consiglio Comunale, a nostro avviso, l'organo deputato a decidere su questa questione così importante e rispondo che probabilmente se fossimo andati avremmo ottenuto quel posto in giunta, quindi questo significa che non è ricatto. Non essere andati è significato probabilmente perderlo, quindi è esattamente il contrario di quello che il sindaco ha affermato.